Questo video è stato possibile grazie a EA Creator Network Bella a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale e benvenuti in questo nuovo video Sono iniziati! Once to Watch, è giusto ieri è uscito il main team che ci regala comunque qualche giocatore interessante Vediamo per esempio Dybala per la serie A, Mané, Holland, Rudiger, Anthony e insomma un po' di giocatori interessanti Oltre a questi ci hanno dato anche Richarlison come obiettivo Che vi invito a sbloccare perché almeno ce l'avete lì da parte Che potranno pagionarsi sia con gli IF come al solito che con le vittorie della squadra Ma anche con le prestazioni della nazionale al mondiale, F per l'Italia E domani se andrà ad aggiungere a questo quantitativo di Once to Watch anche la mini release Quindi mi raccomando domani spacchettate se avete messo da parte i pacchetti E ieri è uscita la video review Skinpot quindi vi consiglio di recuperarla Che è uscito questo ieri l'item e ho fatto subito il video con il gameplay testandolo Mentre oggi siamo qui per parlare della nuova intesa Nuovo tutorial, nuova guida su un elemento che tra l'altro ha stravolto completamente FIFA 23 Poi tra l'altro noi siamo ancora un pochino magari abituati a FIFA 22 Dove l'intesa come vedevate dipendeva dalle linee tra i giocatori vicini di ruolo E determinava l'intesa sia singola che di squadra che entrambe insieme incidevano il suo rendimento Sia in positivo che in... oltre che sul boost sia in positivo che in negativo della carta Ecco questa cosa completamente dimenticatevela perché le linee sono state eliminate Non esistono più, non esiste più neanche l'intesa di squadra che incide sul rendimento Ma quindi come funziona ora? Realisticamente in realtà è molto più semplice Ci regalerà comunque la possibilità di creare nuove ibride con link di intesa super interessanti Prima cosa, un giocatore diciamo che inizia ad acquisire intesa e può far salire l'intesa il gruppo solamente se è nella posizione corretta Ora per esempio noi andiamo a cercare un terzino a sinistro tipo Guerreiro Se lo mettiamo qua vedete incomincia ad avere l'icona con i tre rombini Di conseguenza questo significa che al momento è intesa 0 Se non andiamo a vedere sulla carta infatti vedete intesa giocatore 0 Non guadagna boost ma incomincia a incidere sia sull'intesa totale della squadra sia sull'intesa dei vari gruppi Quindi per esempio in questo caso ha preso uno sul Portogallo, uno sulla Bundesliga e uno sul Borussia Dortmund Ma se spostiamo Guerreiro come DC come vedete c'è un punto esclamativo e non va a incidere sull'intesa né totale né sul singolo Se un giocatore quindi è fuori ruolo non acquisisce intesa e non va a incidere sull'intesa di squadra Non esistono più poi i cambi di ruolo come li conoscevamo una volta Bensì ora per cambiare il ruolo di un giocatore esiste solo un singolo consumabile Che adesso vi faccio vedere se voi andate in applica consumabile e andiamo in piazzamento Abbiamo solamente un item che si chiama modificatore ruolo Questo item vi permette in sostanza di cambiare il ruolo verso i ruoli secondari Nel caso di Guerreiro se andiamo a vedere dentro la biografia del giocatore E andiamo in dettaglio il giocatore come posizione preferita abbiamo terzio e sinistro che è quella in cui lo troviamo E poi abbiamo i ruoli alternativi ASA e ES Quindi ovviamente lui può fare l'ala sinistra a retrata oppure l'esterno sinistro Se noi lo spostiamo come esterno sinistro qua non acquisisce intesa ma se noi poi andiamo a fare applica consumabile consigliato Quindi modificatore di ruolo ci metterà automaticamente le S Alternativamente se andiamo in piazzamento e clicchiamo modificatore di ruolo ci chiederà se vogliamo metterlo come ES o come ASA E in entrambi i casi ovviamente andrà poi acquisire intesa in quei ruoli lì Altrimenti possiamo annullare ovviamente il ruolo in cui era prima in questo caso terzino Specifico che non tutti i giocatori hanno ruoli secondari e come è capitato con Guerreiro Ci sono giocatori che ne hanno più di uno questo è dipendente all'item singolo Confrontatevi sempre con le biografie del giocatore Terza cosa non esistono più i malus di conseguenza per esempio se mettete un giocatore fuori roll Se mettiamo questo Guerreiro come ES Il giocatore non supererà un malus sulle proprie statistiche ma semplicemente come potete vedere manterrà le statistiche normali Senza nessun boost come se fosse intesa a zero Quindi se noi vogliamo giocare Guerreiro come partiere sicuramente rimarrà una pippa ma non perderà nessun valore statistico Quarta cosa da sapere quest'anno i boost dell'intesa sono dipendenti ovviamente dal livello di intesa Che va da zero a tre a zero come abbiamo visto è l'intesa di un giocatore che ovviamente è nel suo ruolo ma non ha nessun tipo di intesa grossa determinata dai gruppi di cui fa parte Quindi nazionalità club o lega e i giocatori poi possono andare da uno a tre in base ovviamente al link che raggiunge Più alta l'intesa più è alto il boost L'intesa di squadra come vedete ora è massimo 33 ovvero 3 per 11 Ogni giocatore essendo che appunto può raggiungere un massimo di 3 di intesa incide sull'intesa totale Ma quest'anno l'intesa di squadra non incide sul rendimento dei giocatori ma è solamente un valore di riferimento o utile per l'SBC Bene ma con tutte queste premesse ok ma come fanno intesa i giocatori? Una volta messi i giocatori nel proprio ruolo facciamo quindi l'esempio Guerreiro Lui fa intesa di Portogallo come possiamo vedere Bundesliga e Dortmund Se noi andiamo a cercare adesso un giocatore della stessa nazione tipo portoghese Magari ne peschiamo un po' poi andiamo a Ripatricio, poi andiamo a Paligna, poi andiamo a Beto, Vitigna, Pouden Se noi per esempio andiamo ora in Serie Vitigna che incide quindi su un'azionalità portoghese del Paris Saint Germain Ovviamente della Ligan come vedete farà salire l'intesa del gruppo della nazionalità portoghese Perché essendo due portoghesi fanno scattare il primo rombino di intesa E ogni volta che scatta un nuovo livello nel gruppo di intesa quindi in questo caso il Portogallo Tutti i giocatori di quel gruppo di intesa guadagnano intesa Quindi se il gruppo portoghese arriva al primo rombo grazie ai primi due giocatori portoghesi Tutti i giocatori portoghesi che metteremo ora interranno automaticamente almeno uno di intesa Indipendentemente dalla distanza dei giocatori o di dove si trovano Inoltre ovviamente lui è inciso anche sul iniziare l'intesa sia della nazionale come abbiamo visto Ma anche della Lega quindi sale anche l'intesa della Lega e della Ligan che va al primo personcina Vedete che i loghettini degli omini quindi possiamo vedere che la Lega ha bisogno di raggiungere tre omini Per sbloccare il primo livello di intesa ma basterebbe invece un solo altro giocatore del PSG Per portare l'intesa al primo rombino per tutti i giocatori del PSG Se ora per esempio andiamo ad aggiungere il Patrizio Vedete non c'è un effettivo guadagno di intesa sui gruppi per il momento ma incominciamo solamente a farli salire Perché ovviamente tutti rimangono in intesa abbiamo un portoghesi in più ci avviciniamo al secondo rombino di intesa E abbiamo creato anche il gruppo di intesa della Serie A e della Roma Se noi inseriamo un giocatore tipo Paligna fuori ruolo come vedete può giocare in quel ruolo Rimarrà con i suoi valori ma non va a incidere su nessuna intesa di squadra e non può aumentare quindi ovviamente tutti i gruppi Se noi andiamo a prendere per esempio un giocatore del PSG adesso giusto per fare un esempio Per esempio un Bappé Se noi mettiamo un Bappé in campo crea innanzitutto il link, il primo link francese quindi il gruppo della Francia Ha aumentato l'intesa di gruppo della Ligan non raggiungendo ancora il rombo, il primo rombino per dare l'intesa a tutti qui la Ligan Ma ci è salita ovviamente l'intesa di Vitigna che adesso avendo due giocatori del PSG e tre giocatori portoghesi Raggiunge due rombi complessivi tra i portoghesi e il PSG Se noi invece andiamo a prendere un giocatore qualunque della Ligan indipendente dal club del PSG Che ne so andiamo a prendere per esempio Begleder e mettiamo Begleder titolare Begleder farà salire l'intesa della Francia perché andiamo al primo rombino di intesa del gruppo francese Avendo Begleder e Mbappé quindi danno intesa sia a Mbappé che a Begleder Facciamo salire anche di un livello la Ligan avendo tre giocatori quindi sblocchiamo il primo livello di intesa dei giocatori della Ligan E in questo modo come potete vedere Begleder entra già con due di intesa perché abbiamo due francesi e tre giocatori della Ligan Mbappé va al massimo perché abbiamo due giocatori di intesa francesi, tre giocatori della Ligan e due giocatori del PSG Stessa cosa ovviamente anche lui che avendo tre portoghesi, Ligan e PSG va al massimo di intesa Ok so che sembra più difficile di quello che è però ciò che è importante ricordare è che quando inseriamo un giocatore tipo questo Mbappé Andrà a incidere di uno sulla propria nazionalità, sulla propria lega e sul proprio club Quindi nel caso di Mbappé per tutti i giocatori del PSG futuro lui ha inciso di uno e intesa Su tutti i giocatori francesi incide di uno e su tutti i giocatori della Ligan incide di uno Se invece per esempio andiamo a considerare una coppiata come quella di Mbappé e Kimbempe che sono distanti tra di loro Ma sono entrambi francesi, entrambi del PSG e entrambi da Ligan Andiamo a sbloccare direttamente, automaticamente, subito e istantaneamente i primi due rombini sia del Paris Saint Germain Perché abbiamo due giocatori del PSG quindi sblocchiamo il primo livello e i primi due giocatori della Francia e quindi sblocchiamo il primo livello Poi abbiamo con la Ligan i primi due omini al primo livello, manca il terzo per sbloccare l'intesa di Ligan Quindi se ora qua per esempio mettessimo Renato Sanchez andremo a tre di intesa della Ligan e avremo sia Mbappé e Kimbempe al massimo Perché l'intesa incide su tutti quanti Ricordiamo poi ovviamente un'altra cosa a considerare Ovvero che i giocatori, come le icone, se le inseriamo nel loro ruolo Prendiamo per esempio Roberto Carlos Si incidono di due sull'intesa di gruppo della loro nazionalità Quindi ovviamente in questo caso il Brasile parte automaticamente con almeno uno di intesa Perché il primo livello è dipendente da avere due giocatori di base di quella nazionalità E Roberto Carlos, contando doppio, bisblocca automaticamente il primo livello In più le icone giocano sempre al massimo d'intesa Quindi abbiamo Roberto Carlos che gioca al massimo d'intesa e automaticamente prenderà il massimo del boost L'allenatore pure è importante perché se noi per esempio mettiamo Tuchel Tuchel incide di uno su Germania e Lega, quindi Premier League Quindi gli alleatori incidono di un rombino, di una persona all'interno del gruppo su Lega e nazionalità Gli heroes anche loro come le icone, se messe nel loro ruolo, giocano con il massimo d'intesa Quindi questo dirt kite, messo ovviamente all'interno del suo ruolo Gioca sempre con il massimo d'intesa Gli heroes, a differenza delle icone, incidono di uno sulla propria nazionalità, quindi olandese Ma incidono di due sulla propria Lega Che a differenza della nazionalità non parte automaticamente con uno d'intesa per tutti i giocatori di redivisi Ma quasi, perché comunque dà due di valore su tre del primo livello Ma se noi mettiamo un altro giocatore di redivisi ovviamente partirà anch'esso con almeno uno d'intesa Quindi l'obiettivo deve essere nient'altro che avere i giocatori nel ruolo Perché ovviamente se non sono nel ruolo non possono salire d'intesa E poi cercare di farli salire d'intesa verso il tre, il più vicino possibile al tre Sfruttando link sia di in azione che di club che Lega generici In modo ovviamente da raggiungere il miglior boost possibile Poi se voi cliccate ovviamente i due analogici potete vedere bene il gruppone dell'intesa E come possiamo vedere le leghe per raggiungere il primo rombino hanno bisogno di avere almeno tre giocatori di quella Lega Quindi bisogna avere per esempio tre giocatori Lingan per il primo puntino d'intesa Il secondo livello si sblocca con solo altri due giocatori, quindi cinque totali E il terzo livello con altri tre, quindi otto totali Invece la nazionalità sblocca il primo pallino d'intesa con solo due giocatori Il secondo livello con tre, quindi il contrario in sostanza di quello che serve con la Lega E per il terzo livello con altri tre, quindi in questo caso sempre con lo stesso numero di quelli della Lega Ma ovviamente considerate che la nazionale, Lega eccetera Già quando raggiungete il secondo livello in genere avete già giocatore a tre Poi per quanto riguarda i club, i primi due giocatori bloccano il primo livello I successivi terzo e quarto sbloccano il secondo livello e poi ovviamente altri tre per sbloccare il terzo Poi per chi è di Bologna o chi sarà di passaggio a Bologna Quest'anno sarò di nuovo presente al torneo del 10 di ottobre in piazza Lucio Dalla Dedicato a tutti i maggiorenni residenti in Italia Dove avrete modo di partecipare a un torneo dove bisognerà giocare col Bologna Dal vivo ci sarò io a commentare, ci saranno anche dei primi interessanti Il torneo è completamente gratuito ed è sia un'occasione per mettersi alla prova e farsi notare Ma anche solo per divertirsi tutti assieme ed è totalmente gratuito Quindi vi lascio il link in descrizione se volete iscrivervi che potete venire a partecipare Ci incontriamo, ci facciamo due chiacchiere, giocate al torneo ed è su Playstation se non lo dà E niente ragazzi, noi ci vediamo con il prossimo video Fatemi sapere nei commenti se vi è piaciuto Fatemi sapere se avete capito come funziona l'intesa o se avete dubbi Lasciate almeno 500 like e ci vediamo nel prossimo video Bella a tutti